Grazie mille, complimenti! Grazie signora! Complimenti, io sto trovando tacco di voi che mi seguo sempre, anche di notte! Ah, grazie! Sì, 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 sì! Grazie signora! Complimenti, buonasera! Buonasera a lei, grazie! Ciao, ciao! Intanto il signor Sebastiano sta preparando la pasta a scolore la pasta e ricordiamo anche la preparazione, gli ingredienti di questo primo che ci ha proposto il signor Sebastiano Lanzafame Allora, abbiamo preparato scilatelle al ragù di pesce spada e pistacchi Facciamo più che scilatelle, sono delle filei Sì, infatti, questi si chiamano, ve lo ripeta? Filei Filei Ok, allora, 500 grammi di pasta, 300 grammi di pesce spada 500 grammi di pomodorini pacchino, li facciamo vedere anche in sovraimpressione 2 spicchi di aglio Il prezzemolo Il basilico 3 cucchiai di olio d'oliva 100 grammi di pistacchio non tostato Sale e pepe quanto basta E un bicchiere di vino bianco Mezzo bicchiere di vino bianco Mezzo bicchiere, ok Ecco che le abbiamo preparate Adesso competiamo la cottura della pasta nel sugo, così si insaporeva bene Perfetto Noi stiamo per salutarci Io vi ricordo che Masterchef torna domani alle 12.30 Fino alle 13.30 con la gentile signora Adriana Domani sera torniamo noi con Masterchef Sempre alle 19.30 fino alle 21.30 E intanto, dopo di noi, vi aspetta Denunce con Michele Macri Allora, qualche altro istante Tempo che si asciuga un pochino l'acqua che abbiamo messo nella pasta Perché oltre a dare il sapore serve pure a legare il sapore Certo Pronto, Nicola? Ah, mi vedi? No, ti sento ma non ti vedo Ti sei collegato con Skype? Stai chiamato con Skype? Sì Ah, ciao Nicola Non so se riesco, se ho la possibilità di vederti Forse ancora in questo momento no Perché la regia è un pochino presa da mille cose Comunque ti ringrazio lo stesso perché ci hai provato subito Sei operativissimo Ok, vediamo se riusciamo In ogni caso, sì, signor Sebastiano, aggiungiamo È quasi pronta la pasta e ci aggiungiamo a mettere il pistacchio Il pistacchio sopra, ecco Non tostato Sempre non tostato Perché se quello è tostato è salato Solo per questo Allora, io sto Ce ne lasciamo un po' per metterlo al fine Sì, certo Quando sobbiamo la pasta Intanto prendiamo due piatti, signora, così li facciamo assaggiare anche i nostri amici Ah, ce li abbiamo qui Ci sono, signora Ci sono, ok Intanto devo iniziare a ringraziare i miei gentilissimi ospiti Il professore Daniele Mellacci, docente di Scienze dell'Alimentazione Giusto presso l'Istituto Alberghiero di Soverato Onofrio, il nostro amico Onofrio Ranieri Ringrazio Rossella, ringrazio gli ospiti che ci seguiranno poi da casa Ringrazio lo chef per averci fatto gustare questi meravigliosi piatti E la signora Iolanda E a voi tutti Grazie a voi Buonasera, presto Grazie, ci ritroviamo presto col professore Mellacci E non vi dimenticate venerdì al ristorante Roma Una serata piccante Piccantissima la serata Ringraziamo la signora Iolanda Rubino Grazie, complimenti per le sue ricette di questa sera Ringraziamo quindi il signor Sebastiano Lanzafame Grazie anche a voi Che intanto ci fa passare la fame con questo primo piatto Io ringrazio tutti i gentili telespettatori di Masterchef Stiamo per chiudere, ci sono? Ok, quindi grazie a tutti Io vi aspetto domani sera alle 19.30 Noi continuiamo a cenare Rimanete su Tele Spazio TV E completiamo con un po' di pistacchio Buonasera, grazie, grazie a tutti Buonasera, grazie a tutti Buonasera, grazie a tutti Buonasera, grazie a tutti